Studio9tv.com Sabato 30 gennaio, in occasione delle celebrazioni per la festa liturgica di San Ciro, presso la chiesa parrocchiale della Madonna della Spiga, lo scrittore lucerino Pasquale Zolla ha presentato la nuova edizione del suo dizionario enciclopedico ed etimologico del dialetto lucerino, parlo come da Fat Mamat. Introdotto dal parroco Don Erminio Di Bello, Zolla ha voluto sottolineare come il dialetto lucerino è una vera e propria lingua che va conservata e trasmessa ai giovani che ne stanno perdendo l'uso e la comprensione. La cosa che più mi piace e mi rivolgo soprattutto ai genitori è quella di dire non ripudiamo la lingua dei nostri avi perché hanno tanto da dirci e tanto da insegnarci e non schiaffeggiare i vostri bambini quando usano parole dialettali. Ha così parlato ai presenti delle regole di fonetica che contraddistinguono la nostra parlata, degli etimi di altre lingue che stanno alla base di molte parole del lucerino. Basti pensare ad esempio all'arabo con lemmi come oppure al greco che ha originato moltissimi vocaboli al latino, al provenzale, allo spagnolo, al tedesco, al francese, all'ebraico. Insomma, un ricchissimo e preziosissimo patrimonio culturale e linguistico che non va assolutamente perso. Ha inoltre parlato del successo che il nostro dialetto riscuote nei concorsi letterari nazionali ed internazionali a cui partecipa. Le composizioni di Pasquale Zolla si classificano sempre ai primi posti. Il nostro dialetto ha avuto un successo straordinario perché, pensa, in Valle d'Aosta sono state tra i primi. La Valle d'Aosta non è una cosa. a Lucerna, poi ancora di più, sono stato uno o forse l'unico lucerino a vincere il concorso nazionale, regionale a San Felice sul Panare. Oh poverina, adesso con il terremoto sapete quello che è successo. Però sono stato l'unico lucerino a far trionvare il dialetto di Lucera. E non vi dico, a parte medaglia d'orecosa, prosciutto, poi formaggio. Esatto, era qualcosa di eccezionale, di straordinario. Lo scrittore lucerino ha letto qualche particolarità che il suo dizionario menziona. Le ninananne, ad esempio, o le canzoni nate da episodi, oppure da tradizioni del nostro passato, come U23 d'April, che racconta la protesta delle donne contro le tessere per il pane. Ha poi omaggiato San Giro leggendo una poesia scritta di proprio pugno in suo onore. Ai microfoni di studio Nuove TV ha spiegato l'origine della sua passione per lo studio del dialetto. Ma io la passione mi è nata con l'andare fuori della città di Lucera a cercare un lavoro in quel di Milano. E allora, e come dicevano gli antichi napoletani, partono in bassamente per terra assai lontana, che andavano in cerca di lavoro, ma il cuore sempre resta napoletano. E il mio cuore è rimasto di Lucera. E venendo a contatto con i tanti lucerini che incontravi in quel di Milano, mi sono reso conto della grandezza e della bellezza, non soltanto del dialetto, ma della cultura che quel dialetto dava al mondo intero. Perché ogni proverbio, ogni modo di dire, ogni preghiera, ogni racconto, ogni canzone era appunto una metafora di quella che era la vita degli uomini. La lucerinità, virtù culturale e identitaria esaltata dal compianto Monsignor Antonio del Gaudio nella prefazione alla prima edizione del dizionario, deve tornare a riecheggiare tra le strade e nelle case di Lucera per dire che la nostra storia e la nostra cultura sono doni troppo preziosi per essere persi. In attesa che il nostro autore pubblichi il suo nuovo lavoro che raccoglie racconti e storie della nostra tradizione intitolato Ukund den Anurk, possiamo allora bendire a tutti e parlo con Tafat Mamat.